Ciao ragazzi, qui Cricco e oggi voglio parlare in modo molto semplice per i neofiti del mondo dell'internet marketing e spiegare a loro perché è così importante avere un autoresponditore, che cos'è, come funziona, eccetera, eccetera. Qui siamo all'interno di uno dei miei tanti blog, guadagnacoblog.it Come vedete è strutturato proprio come blog, qui abbiamo tutti gli articoli e a destra c'è la classica sidebar. Qui, come vedi, c'è un scarica gratis, c'è l'immagine di un ebook, di un libricino, lasci il nome, lasci il cognome, inviami la copia e ricevi per email prima un link da confermare perché ho inserito la conferma. Una volta che hai confermato per vedere che l'email è veramente tua, poi ricevi l'ebook da scaricare. Questa operazione che cosa mi consente di fare a me? Mi consente di catturare di generale quelli che si chiamano lead, ovvero i contatti. I contatti non sono clienti, sono solamente contatti. Che tu avrai poi l'obbligo di scaldare, di riuscire sempre a mantenere viva questa relazione fin quando poi non arrivi ad offrirgli, a fargli un'offerta. Che so, hai realizzato un nuovo prodotto, hai creato un nuovo servizio. Chiaramente più la roba che scaricano gratuitamente dalla tua sidebar è in linea con quello che poi gli venderai e maggiori probabilità sono di successo. Per esempio, se io qui ti insegno i 5 segreti per guadagnare con il tuo blog e poi sempre a te ti dico, oh senti ho creato questo prodotto per iniziare a suonare il pianoforte ma non te frega una mazza di imparare suonare il pianoforte probabilmente vuoi capire come riuscire a guadagnare da un blog. Quindi se ti offro poi un prodotto a pagamento che sia chiaramente in linea con quello che hai scaricato c'è molta più probabilità, si dice di convertire cioè quando un lead finalmente poi ti sgancia dei soldi. Parliamo molto terra a terra. A sidebar ci sono vari banner eccetera 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 eccetera. Devo dire tra l'altro ragazzi che questo cazzillo, questo banner piccolissimo di sidegram mi sta dando grandi soddisfazioni. Non l'avrei mai pensato ma mi sta dando grandi soddisfazioni. Va bene, torniamo a noi. Entriamo all'interno di un articolo qualsiasi. Come vedete tutti i miei articoli sono video. Ecco qui ho nuovamente in sidebar sempre ben visibile. Qui non appena entri caso mai non questo non lo vedi questo coso gigante c'hai nuovamente lo scarica gratis, ti pappi tutto l'articolo, te lo pappi tutto, 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 tutto e arrivi alla fine che c'è ancora un altro reminder. Cioè tu, la morale è tu non devi uscire dal mio sito, dal mio blog senza avermi dato i tuoi dati almeno la tua email, perché un visitatore che esce dal tuo sito e se ne va e non ti ha lasciato alcun tipo di contatto, numero di telefono, indirizzo email o qualsiasi altra cosa per poterlo ricontattare è essenzialmente un contatto perso. A meno che questo non si ritroverà poi a ritornare sul tuo sito tramite una sponsorizzazione tramite una ricerca su Google, però voi dovete cercare veramente di creare, di incanalare tutti i visitatori che arrivano appunto gratuitamente tramite le ricerche su Google oppure tramite l'inserzione e pagamento che fate su Google, su Facebook eccetera dovete incanalarli il più possibile in un sistema che vi permetta di ottenere i vostri dati perché più dati avete più potete dare e creare delle offerte apposta per quella lista di contatti questo è quello che si fa. Per fare questa robina qui, un form si chiama, un form che cattura dei commenti ci vuole un autoresponder, ce ne sono tantissimi, io ne ho utilizzati tantissimi, ho iniziato la mia carriera nel 2009 con la Weber, solo che non c'avevo una lira, era all'inizio, non c'avevo una lira, però sapevo che era importante e non avendoci una lira avevo iniziato, ero durato due o tre mesi, poi ho detto no senti, sto cosa costa troppo, andiamo su una cosa più economica. Il problema delle cose più economiche è che magari ti danno all'incirca le stesse funzioni, ma uno non si capisce una mazza due, delle cose che dovrebbero essere semplici diventano difficilissime tre, poi mancano delle funzioni veramente essenziali. Così mi ero trasferito, come ben sapete l'ho dato in tanti video, su Mail App. Mail App, quando mi ero iscritto io dava la possibilità, siccome poi con tutti i vari siti e le varie nicchie che gestisco ero arrivato ad un numero incredibile, anche con piano solo, siamo arrivati tipo a 25.000 indirizzi mail voi sapete, se non lo sapete ve lo dico io ora, che questi sistemi, questi autoresponder ti fanno pagare più indirizzi mail hai, quindi se hai 1.000 indirizzi mail paghi 19 euro al mese, se ne hai 5.000 paghi 49 euro al mese, se ne hai 10.000 ne paghi 79, eccetera eccetera, quindi va sempre ad aumentare, quindi è un sistema che tu dici, non vedo l'ora di fare più contatti, però allo stesso tempo c'è un po' paura, perché 10 camera, chissà quanto andrò a spendere. E quindi niente, ero andato su questo Mail App che quando mi ero iscritto io, ti dava un numero di contatti infiniti e illimitati, cioè tu per, non mi ricordo quanto spendevamo, 600 euro l'anno, puoi portarci tutti i contatti che vuoi qui dentro, adesso tra l'altro se vai a vedere hanno anche cambiato, perché probabilmente si sono resi conto che non era vantaggiosa per loro come offerta, quindi niente, adesso c'è il mio socio che continua ad avere questo contratto e non lo lascerà mai, perché penso che sia il più vantaggioso di tutta la rete, però per quanto riguarda le mie cose, i miei progetti personali, ho deciso di migrare su GetResponse, ce l'ho proprio qui, questa è l'home page di GetResponse, facilissimo, e a parte che è più economico di Aweber, ma è facilissimo e voglio farti vedere le cose fighe che puoi fare, allora qui su Crea, poi puoi creare un autoresponder, ovvero un sistema che se tu mi lasci l'email, io ti rispondo subito in automatico e ti faccio scaricare il mio prodotto, puoi creare una newsletter, quindi dici ragazzi come state, tutto bene, io sto partendo per le vacanze, non pubblicherò niente sul mio blog per due settimane, ci aggiorniamo, c'è trascita una landing page, ragazzi, poi chiaramente dipende da quale piano scegli, sul piano scelto io puoi realizzare landing page infinite, e questo è Crea un modulo, il modulo essenzialmente è quello che hai visto qui, questo crea il form, crea il modulo, ora io ho scelto questi colori, questo sfondo, vedete che c'è come sfondo il pc eccetera eccetera, potete creare quello che volete, con tanti moduli predefiniti, per esempio andiamo su Crea modulo, vi faccio vedere, sono ragazzi, questi sono solo alcuni di tutti i moduli che potete prendere, potete cambiare, cioè sono bellissimi, sono bellissimi, cioè sono tantissimi ragazzi, cioè guardate, vabbè, potete fare quello che volete, e una volta che avete finito, prendete il codice, lo copiate in sidebar, come volete, e il gioco è fatto, cioè non dovete installare plug-in, il mega plug-in, adesso ci aggiungo quello per fare i form, no, c'è già tutto, c'è già i form, strafiki, get response, punto, vi risolve tutte le beghe di questo mondo, creare una landing page, creare una landing page significa, adesso ve lo faccio vedere, questo, cioè ragazzi, una landing page vera e propria, cos'è una landing page, per chi non lo sa, vi faccio vedere, una landing page, dai ce la possiamo fare, è questa, cioè quando tu realizzi un prodotto o un servizio, è, si chiama anche lettera di vendita, cioè ovvero un mini sito dove tu non puoi fare altro che scorrere la pagina, scorri, 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 e a un certo punto, dopo che hai avuto tutte le informazioni del caso, c'è una call to action, ovvero un pulsante che ti manda all'azione, al che puoi decidere di continuare di cliccare o di uscire dal sito, non puoi e non devi avere altre alternative, ma non solo le landing page servono a farti vendere un prodotto, ci sono le landing page che ti servono ad acquisire contatti, esempio, andiamo un attimino su un mio canale YouTube e ti faccio vedere una cosa, prendiamo un video a caso, magari un po' più recente, questo qua, ok, guardate qui io in descrizione ho messo una serie di link, scarica il manuale e le basi del piano, ci clicco sopra e mi rimanda questa landing page che ci ho messo ragazzi, ci ho messo tipo 10 secondi per farla, ho preso un template, ho cambiato il testo, beh chiaramente ho dovuto creare questa immagine in 2D che simulasse il mio ebook, vuoi scaricare le basi del pianoforte? c'è dentro questo, 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 consigli e trucchi eccetera eccetera, iscriviti ora e scarica la tua copia, metti email, metti nome, scarica ora eccetera, ragazzi, cioè una landing page così, tra l'altro ho stata anche, vedete l'indirizzo? e ho stata su un dominio di get resource, poi non ho dovuto neanche comprare un dominio, cioè ragazzi è bellissimo, niente quindi io vi consiglio giusto per evitare gli errori che ho fatto io e di partire subito a bomba, ragazzi, anche qui c'è una bellissima landing page riguardo il mio blog, ecco qui va ma che bello, carina, tranquilla, easy, ma è chiaro non è la roba più, però tranquillissima ma che carino, vabbè, comunque volevo dirvi, se volete utilizzare get response in descrizione di questo video e nel primo commento troverete un link, è un link affiliato, sapete come funzionano i link affiliati, se voi vi iscrivete colui che vi ha lasciato il link, in questo caso io, guadagnerà una piccola percentuale dalla vostra iscrizione, potete farlo, potete non farlo, come volete voi, l'importante era farvi vedere e farvi capire l'importanza di avere un autoresponditore, io utilizzo e quindi consiglio get response, lo utilizzo ormai da 4-5 mesi, quindi l'ho testato direi abbastanza abbastanza bene, adesso tra l'altro è uscita una nuova funzione, se andiamo in home, che è arrivato l'autofunnel che è una cosa strafiga, ho detto ciao che figato, utilizziamolo invece no, puoi utilizzarlo solo se fai il piano ancora più superiore, vediamo se riesco a farvi vedere i prezzi, vediamo un pochettino i prezzi di get response, o get response come si voglia dire, allora ti dice guarda qual è la dimensione della tua lista, supponiamo che noi siamo all'inizio e abbiamo massimo 1000 indirizzi mail, puoi partire con un basic di 13 euro al mese, che onestamente mi sembrano carini, il problema è che dipende da quale piano scegli, io se non erro ho il plus, fammi vedere, funnel di vendita, che infami, che infami, hanno messo l'autofunnel, che infami, webinar, vendita, si si ho questo qui, solo che io essendo vecchio cliente, vedete, io non ce l'ho l'autofunnel, che infami, funnel di vendita, che infami, va bene comunque ho questo piano qui, e purtroppo c'è un dislivello enorme, tra l'altro è vero, dipende se tu paghi mese per mese, sono queste le cifre, se paghi un anno o due anni subito, sono queste le cifre, supponiamo che voi arriviate anche a 3000 indirizzi mail, sono questi i prezzi, insomma non sono pochi, già c'è un 50 euro al mese, non sono poco, ma si presume, e per esperienza ti dico che è così, che con 3000 contatti, 50 euro al mese, te li rifai alla stragrande, se chiaramente lavori bene. Niente ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile, noi ci vediamo alla prossima e ciao!